Avigliana è una città medievale dal cuore verde. Ospita infatti uno dei borghi medievali più rilevanti della provincia di Torino, sorto intorno all'anno 1000 e intorno al monte Pezzulano. Il Parco Naturale dei Due Laghi di Avigliana ha un sito di interesse comunitario, con al centro il Lago Grande, un sito balneabile, che ospita diversi eventi sportivi durante tutto quanto l'anno. L'occasione degli European Master Games è fondamentale per promuovere il nostro territorio, accogliere tutti gli sportivi e anche i turisti che vorranno visitare questo luogo straordinario. Ci impegneremo affinché questa diventi l'occasione per scoprire un territorio intorno alla città di Torino, che sta continuando a crescere e che offre molte occasioni di divertimento, di socialità e di esperienza.